vediamo come effettuare un reset di fabbrica per effettuare un reset di fabbrica devo eseguire i seguenti passaggi premo la rotellina verde e vado mi sposto su conf entro dentro e vado a cercare fcs entro dentro fcs vado a cercare il parametro free entro dentro su free e trovo al con due trattini verso il basso premo la rotella una volta i trattini vanno verso l'alto premo esc mi sposto a destra verso cercando il parametro gfs premo dentro troverò no mi sposto il parametro su yes tengo premuto per circa 2 3 secondi la rotellina verde fin quando i due pallini rimangono fissi ritornerà su gfs in questo caso uscendo da tutto abbiamo effettuato un reset di fabbrica no